Un edificio di 17.500 metri quadri e 15 piani nel cuore di Milano, quartiere Porta Nuova, ospita i nuovi uffici corporate di Amazon, dove lavorano 550 dipendenti del colosso dell'e-commerce. L'edificio è parte di un complesso che a regime potrà ospitare 1.100 persone. Si tratta di due edifici collegati a tutti i livelli da un blocco centrale, che ospita i quattro ascensori principali, con una facciata a vetri. È il frutto del restauro di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni 70, simbolo per decenni della Maire Technimont. Gli autori del concept della progettazione architettonica di riqualificazione sono Antonio Giolio e Federica Deleva di GBPA Architects. La Tecne SPA si è occupata della progettazione impiantistica e strutturale e del coordinamento e direzione lavori. L'architetto Bernabé Rodriguez di JLA della progettazione degli interni. La zona di Porta Nuova è diventata la nuova Silicon Valley di Milano. Ci sono diverse società che si sono trasferite qui. È una location perfetta per simboleggiare il collegamento con la Silicon Valley e il quartiere centrale di Brera, un posto strategico e di grande attrattività per i talenti. Trovare il palazzo è stata una sfida. Ne abbiamo visitato oltre 20 in tutta la città prima di scegliere questo con una storia industriale con cui ci siamo identificati e abbiamo spinto i nostri architetti a immergersi nella cultura locale e nei valori della città perché volevamo un design che si adattasse solo a Milano. Non avremmo potuto progettarlo così altrove. All'interno il contributo del design è importante, non solo, perché siamo qui. Per favorire l'interazione tra i team la struttura offre sale riunioni di diverse dimensioni, sale flessibili per diversi utilizzi, aree per la collaborazione, business center e sale riservate per le telefonate. I dipendenti hanno a disposizione una piazza interna coperta, ampie terrazze panoramiche, zone per lo sfago e una grande area lounge al piano terra. Amazon è una compagnia molto flessibile, cresce molto in fretta e quindi dobbiamo essere pronti al cambiamento. Così lo spazio è flessibile, abbiamo aumentato molto rispetto agli uffici precedenti il numero di postazioni per adattarsi alla crescita dei piani e allo stesso tempo ci siamo focalizzati su grandi e piacevoli spazi per la pausa come una cucina in ogni piano. Pensiamo che anche l'arredamento, ad esempio le poltrone o le sedie comode, siano molto importanti quindi abbiamo studiato degli angoli piacevoli dove andare con il pc a lavorare. Tutte le scrivanie sono adattabili in automatico, basta premere un bottone, in pochi secondi si può lavorare in varie configurazioni, in piedi o seduti, per dare più fessibilità. Abbiamo scelto una palette di colori che si identificasse con la città, in ogni piano ci sono sfumature diverse di gialli, verdi, blu e rosa e sono tutti i colori che si trovano attorno a questo edificio. Lo spazio si identifica e integra perfettamente con la città. L'edificio ha uno speciale sistema di riscaldamento e raffreddamento che garantisce risparmio energetico ed ospita un terrazzo di 200 metri quadri di pannelli fotovoltaici. Il sistema di illuminazione è automatico per garantire un risparmio energetico strutturale. Dal suo arrivo nel 2010 in Italia, Amazon ha investito 800 milioni di euro, oggi conta 3.500 dipendenti a tempo indeterminato, nel prossimo futuro in programma altre 3.000 assunzioni.